Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Ragazzi stavo guardando qua che veramente abbiamo questa pianura immensa dove potremo costruire E beh lo faremo anche logicamente Però sto guardando anche qui che ho questo pezzo di casa che esce fuori no? Devo coprirlo in qualche modo facendoci qualcosa sopra E non ho ancora bene in mente cosa farci Devo pensarci Comunque ho fatto un bel po' di lavoro off camera come al solito Come al solito richiede questa serie Ovvero sono andato a ripulire di minerali le caverne che avevamo sotto casa E dovevano anche essere appunto illuminate Anche se non sono state diciamo ben illuminate come vedete qua Adesso cerchiamo di ripulirle appunto Ok molto bene E no non sono ancora perfettamente pulite diciamo Però La cosa è che qua sotto Adesso non ho presente di preciso dove Comunque qua sotto a qualche parte ci dovrebbe essere Una robetta in cobblestone Che però adesso non troviamo ovviamente La prima non sto carbone Giusto per E Niente ragazzi Comunque in questo video Andremo a fare varie cose A proposito Ho anche remediato altro ferro A proposito di ferro Ho scoperto una cosa Che non ci farà molto piacere Adesso ve la vado a far vedere Lasciatemi solo raccogliere Questo bellissimo ferro E lasciatemi illuminare tutto ciò Ok Andiamo a Ehm Raccogliare questo ferro Perfetto Ok 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 Prendiamo tutto Fantastico Guardate quanto ce n'è Lo so io per il carbone vengo matto Me l'avete anche scritto Nei commenti Ma il carbone lo prendi sempre tutto? Sì Lo prendo sempre tutto quanto Il carbone perché Lo adoro Io ho bisogno di carbone Sì Vado a carbone io No ragazzi veramente Il carbone non sembra mai una cosa utile Quando uno è senza carbone Veramente si sentirà Una cacca Perché dirà Cavolo i diamanti ma non il carbone Ehm Adesso veramente Siamo quasi a Mh Tre stack Di Ehm Di Di cubi di carbone Se non di più Adesso andiamo a darci un'occhiata Nel frattempo ho portato avanti anche lo smistamento Come al solito Il carbone l'ho messo qua in fondo per ora Ok abbiamo Quasi Siamo quasi al quarto stack Di cubi di carbone E ogni E ogni stack È formato da nove stack Quindi Fate un po' nove Ehm Per Quattro Fa esattamente Trentasei Se non sbaglio Sì fa trentasei Oh my god Fa trentasei Cavolo Ehm Sì ho scoperto la matematica No scherzo Qua ho cominciato a fare uno scavo Poi vi spiegherò dopo cosa serve E Ehm Qua ho cominciato a fare altre divisioni Diciamo che qua Per pura combinazione Abbiamo esattamente Ehm Lo spazio minimo per i minerali Ovvero diamante Oro Ferro Quarzo E l'abislazzuli Smeraldo che non c'è ancora Redstone Carbone E carbonella Giusti giusti ragazzi Mi sembra che Ehm A meno che non aggiungeranno Degli altri materiali Altri minerali Ehm Questo sarà Quello che avremo per ora Qua penso che Teremo anche degli spazi Per delle cose nuove Quindi andiamoci piano Comunque adesso cominciamo a craftare Fare un po' di cosette Prima di tutto voglio Mettere a cuocere Quest'oro Che ho andato a prendere Off camera Vediamo un attino se Uno sticchettino Basta per cuocerne uno Direi di no Direi proprio di no Comunque facciamo così Ok E buttiamoci dentro Del carbone Poi buttiamo dentro Del carbone Anche qua E del ferro Spettate per coprire Tutto sto carbone Ok Qua andiamo a buttarci dentro Il ferro anche qui Buttiamoci questi due sticchettini E per 32 Servono Quattro pezzi di carbone Guardate che matematico Mamma mia Oddio Cosa ho fatto Ok Tac E niente Qua appunto cuocerà il ferro Cuocerà l'oro Cuocerà tutto Andiamo a depositare le altre cose Ma non prima Di aver craftato Queste cosette bellissime Che si chiamano Redstone lamp Yes Faccio quattro redstone lamp Che si fanno con Redstone Con redstone ai lati E un cubo di Pietra luce O pietra Glowstone E' uguale Comunque Eccolo qua Le nostre lampade Di pietra rossa Allora Andiamo a mettere qua E Ho fatto appunto Questa sistemazione momentanea Con le torce tattiche Allora qua Rompiamo un cubetto Andiamo a mettere Quattro leve Sì quattro leve dovrebbero bastare Ma non è che dovrebbero Basteranno Ecco Tac Tac Ok Andiamo a mettere la prima Che si farà così Perfetto Very very good E illumina A dovere Molto Molto bene Andiamo anche qua A rompere Quello che bisogna rompere Ok Andiamo a mettere La leva Aspettate Leva Mettiamo Così L'apriamo subito E mettiamo la luce Anche qua Andiamo a mettere La leva Ok Ok Leva Torce Cioè torce Oddio Lampada Oddio Non riesco a parlare E Anche qua Andiamo a Aprire tutto E andiamo a mettere Un'altra leva Ok Parliamo un attimo Del pollaio Che No Non l'ho azionata Sono un pollo Ok Dov'è la L'argilla Ok perfetto Et voilà Si Sta decisamente bene Non vorrei toccare nulla Però Potremmo fare Ancuna decorazione Del Tipo Così Adesso vediamo Se ci sta Male o bene Giusto per La faccio Non per Un motivo Preciso Ok E ok Si ci sta E se lo provo Doveve metterlo Su tutti i lati Andiamo un attimino E no Prova basta Il livello di luminosità Non penso Allora di farlo Lasciamo perdere Ok Lasciamo perdere Così stanno Fin troppo bene Basta Esagerare sempre Con queste cose Ok Allora adesso Andiamo a fare Un'altra cosetta Ovvero Allora Mettiamo a posto Questo Qua Vediamo un attimino A che punto siamo Abbiamo l'oro Abbiamo del ferro Abbiamo Dell'altro ferro Ve li lasciamo lì Che cuociano E prendiamo tutti i materiali Che sono caduti Noi abbiamo raccolto Opla E qua Momentaneamente Mettiamo delle torce Poi vedremo se mettere Tipo Un'altra fonte Di illuminazione Se sarà necessario E niente Andiamo di qui E guardiamo Se lo smistamento Funziona Anche se ormai Abbiamo visto A proposito Guardate qua Quanto ferro è arrivato Guardate Ce ne erano Cinque Prima di cominciare Questo episodio Quando abbiamo finito L'ultimo episodio E adesso Senza aggiungerne Ne sono arrivati Un casino Comunque metto Il ferro e loro Lo si andranno a smistare Perché loro possono Vediamo qua Il meccanismo Che funziona Eccolo lì Lo vedete Eccolo lì Sì è lui È lui E vai Che bello Sono troppo contento Comunque Adesso ne devo mettere a posto Anche il carbone Sì il carbone E andiamo Dov'è il carbone Qua in fondo Finchè non c'è l'item frame E non ho ancora programmato Lo smistamento È un po' un casino Da capire dov'è Poi ne devo mettere a posto Anche la resta Anche qua Ok E cos'altro Direi basta Allora cominciamo Col progetto di oggi In pratica Allora il progetto di oggi Sarà questo Che cos'è È il famoso Ascensore Oddio qua Il famoso ascensore Ok Per Ehm Discendere Ok però adesso Come faccio qua Ah giusto Dimenticavo L'acqua Ok l'acqua L'avevo messo dove Di qua Ok perfetto Allora Qui ho messo dell'acqua Beh magari faccio Un secondo Una fonte di acqua infinita Va Ok perfetto Almeno Sono Sistematico Perfetto Tac Allora Praticamente questo qua Sarà un sistema Aia Come avete visto Per discendere Soprattutto che dovrebbe Bevere l'acqua E questo L'unica Piccola parentesi Ok Comunque Io dovevo essere qui Quindi qua Ci dovrebbe essere l'acqua Proviamo a tirare Il primo secchio E va esattamente dove volevo io Perfetto Quindi adesso Ci sarà Qua Tre blocchi Uno Due Tre Ok Poi ci saranno Altri tre blocchi qua Uno Due Tre Poi qua ci saranno altri tre blocchi Uno Due Tre Ok Senza cadere Magari sarebbe una bella cosa E altri tre blocchi Uno Due E tre Ok perfetto Adesso Con il mio fedelissimo Beh a parte che devo andare A rimuovere la cobblestone In eccesso Facendo questo Lavorettino qua Ok Col piccone Ok Ok Senza c'è un po' di casino Tipo l'acqua che va nelle caverne Qua sottostanti Ma va bene Adesso lo aggiustiamo tutto Stiamo calmi Aiuto Ok Con calma Ok Ok Perfetto Eh beh perfetto per modo di dire Perfetto è un'altra cosa Ma va bene Allora Risaliamo Prendiamo L'acqua Togliamola Ci seria giusto per capire Subito dove mettere la roba Ok Adesso Qua ce ne manca un pezzettino Allora andiamo a mettere di là Aspettate Partiamo mettendo L'acqua di qua Sì Ok quindi facciamo Prima di tutto questo Cesso che è rimasto qui Dato qua poi andremo a mettere Una decorazione Penso O di glowstone O di qualcosa che faccia luce E andremo a mettere Tutto il soffitto In Questo Bellissimo In questa bellissima Argilla azzurra E comunque adesso andiamo a mettere Il primo secchio d'acqua Ok Che scende perfettamente Scendiamo anche noi adesso Ok Prendiamo la cobblestone Andiamo a togliere Tutta la cobblestone qua intorno Andiamo a togliere anche questo Ok Ehm Oddio Qua c'è qualcosa che non va Tipo questo Dovebbe essere qui Ok Questo dovrebbe essere No Ancora no Oddio 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 Qua c'è una caverna Così ne fai tempo Ve la faccio anche vedere Sì però magari Lasciamolo piazzare un blocco Uno solo Non dico tanti Ok Perfetti Perfetto Ma arriviamo perfetti Oddio Non riesco neanche più a parlare In situazioni di sclero A proposito di sclero Ragazzi Non perdetevi La prima stagione Della nuovissima serie Exitita Alla fine abbiamo deciso Che ci sarà questa stagione Questa prima stagione Questo Primissimo Ehm Questa nuovissima Scusate Serie Su queste mod E Credetemi Vi piacerà Perché Vedo che Quando sclero Male Ehm Proprio siete contenti E quindi Automaticamente Vi piacerà anche la serie Perché Ehm E' una serie Bella ragazzi Cosa vi posso dire Se non che è una serie Bella Qua mi sono buttato Di nuovo sotto Come un pollo Allora Vediamo di piazzare L'acqua lì Perfetto Ce l'abbiamo fatta Adesso lì dovrebbe formarsi L'acqua infinita Credo No non si è formata L'acqua infinita Come l'ho detto Perché È L'acqua è messa A vuoto Quindi andiamo a mettere Dell'acqua Lì Ok Poi Ne serve Anzi Facciamo un'altra cosa Una cosa Molto Molto Più furba Che richiederà Un pochettino Più di tempo Però Sarà più facile Per noi Allora vado a tappare Tutto Ok Tappiamo tutto Oddio Che casino c'è Tappo tutto Ragazzi Faccio una piccola postazione Di lavoro Sopra E la posizione Da sopra L'acqua Si direi che È la fine Soluzione migliore Sì Ok No 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 Risali Risali Perché qua Non puoi permetterti Di rimanere sotto Ok Ok Infatti stavo Già rimanendo sotto Niente ragazzi Faccio questo piccolo Stacco Quindi vado A fare Giusto una postazione Sopra Per poter lavorare E ci vediamo Tra poco Ok ragazzi Rieccoci Qua vado a togliere Appunto La fonte di acqua infinita Vado a coprire tutto Ovviamente La decorazione Che farò qua sopra E poi vi spiegherò Anche perché Stiamo facendo Questa specie di cascata In mezzo Aia In mezzo a tutto Ok Saldiamo Con il secchio d'acqua Fidelissimo Che non ci abbandona mai Sei grande Secchio d'acqua Ti stimo un casino No Opla Oddio Con calma E Opla Ok Perché io posso Sì Ok Risaliamo di qui E adesso Devo anche parlarvi Di altre cose Come il pollaio Che non potremmo andare A fare in questo episodio Perché ho scoperto Che qua il pollaio Dovemmo fare E qua probabilmente Entrerà in conflitto Con lo spazio Che ci serve Per lo smistamento Quindi Aia Prima è meglio Che Pensiamo A come fare Lo smistamento O meglio Riusciamo a fare Il primo piano Lo smistamento Quindi O meglio Almeno il primo lato Perché sono ancora fermo Ai minerali Ragazzi E' veramente costoso Lo smistamento Allora adesso Risaliamo di qua E vi faccio vedere Che ho Preparato Appunto all'area Anzi Anzi Adesso facciamo Un bel lavoretto Giusto per fare I lavori Proprio con i fiocchi Ok Facciamo così Ok E andiamo a Tappare Il Questo livello Dove appunto Andremo a mettere L'acqua Ok Quindi andiamo a tappare Tutto proprio qua Ok Nel frattempo Sentirete dei bambini Fuori Perché Io abito Nel villaggio Dei disturbi E E ci sono sempre Dei casini Ok Oddio qua Cosa è successo Il mouse Va bene Il mouse è ripartito Forza mouse Aiutami Grazie mouse Che mi sostiene In tutti gli episodi Mondi di cubi Sei grande Allora adesso Pensiamo Oddio perché ho aperto L'inventario Non lo so Comunque pensiamo A come riempire qua D'acqua Allora qua ho fatto Questa piccola zona Dove ho Lava E dove ho anche Ehm Tutta l'acqua Adesso andrò A riempire Quindi farò Tante volte Su e giù Probabilmente Ecco Ehm Andrò a riempire Questo Pezzettino Di Di area Dove appunto Ho Ok così Dove appunto Ho tutto Dove farò La cascata Diciamo Ok Poi nell'inventario Con me Ho del Fedelissimo E bellissimo Ghiaccio Cioè ghiaccio Oddio Cosa dico Vetro Il vetro Lo andrò a mettere Ehm Ah guarda Ok perfetto Acqua infinita Ho sfruttato Il bug dell'acqua infinita Laica pro Yeah Ok Quindi facciamo La risalita Ok Risaliamo Prendiamo Il nostro secchio di lava Stando Attentissimi Non attenti Attentissimi Tappiamo tutto quanto qui Intanto qua non dovremo più venirci Ok me lo credo Spero Ehm Chiudiamo tutto Chiudiamo tutto Chiudiamo Tutto Ok Questo qui è veramente un pezzo delicato Ok E' un pezzo Very very delicato Aia Siamo rimasti al buio Ma tranquilli La luce è arrivata Ok Adesso Ehm Andiamo a Mettere tutto il vetro Ok Ok Tutto il vetro così E Sperando Che i miei calcoli Siano giusti Se adesso io metto La Lava qua Dovrebbe fare luce Ma non Non dovrebbe andare A Oddio Si è ricreata Si E non dovrebbe andare A dar fastidio Alla nostra Amica Acqua Cioè non dovrebbe diventare Cobblestone O roba del genere Adesso vediamo Al momento della verità Se è vero Ok Chiudiamo tutto Perfetto Rompiamo Questo cubetto E' una Mossa Veramente Molto veloce Quella che devo fare adesso Quindi tipo Devo fare Velocemente questo Ok Quindi Farò Tac E tac Ok Vediamo un attimo Se si allarga bene Oddio qua sto cominciando A prendere danno Aia 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 Ok E ragazzi Dovrebbe aver funzionato Proviamo a togliere tutto Si Ha funzionato Decisamente Ha funzionato Decisamente Ragazzi Si e vai Praticamente Abbiamo ottenuto Una cascata Illuminata Dalla lava Guardate Che cavolo Di figata Sono riuscito a fare Oddio E' stato un casino Assurdo farla Perché E' E' complicato Non far unire La lava E l'acqua Ok Che soddisfazione Che soddisfazione Che soddisfazione Ok Quindi Qua avremo lo spazio Per andare a fare Il secondo La seconda parte Dello smistamento Ok ragazzi Sono veramente contento È venuto una volta Tanto Un bel affarino Ok Beh Ovviamente Like a screenshot Ok Facciamo uno screenshot Facciamo uno screenshot Di questo Genere Ok Ok Bellissimo Ancora uno Mi sento ferre For the fotografo Ok 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 Perfetto Ristalliamo un attimino E' Sinceramente E' una cosa Che ho Quasi Anche un po' Improvvisato Quindi non Non mi aspettavo Che venisse Così bello L'effetto Cioè non ho neanche Provato in creativa Sapevo Che si potevano Fare delle cose Del genere Perché Giocando in un server Una volta L'avevo fatto Ma Non pensavo Che sarebbe venuto Così bene Comunque abbiamo due secchi Impiliamoli Ok E niente Direi che qua Appunto Poi andrò A fare tutto quanto Alla zona Relativa al secondo Smistamento Però guardate Per adesso Che cosa abbiamo E' veramente Una figata La lava E l'acqua Attaccate Si Mi piace veramente tanto Ragazzi E' questo E' quello che volevo fare In questo video E' infatti Ci ho fatto pure lo screenshot Per far capire Che cos'è l'obiettivo Nel video Infatti tipo L'altra volta Ho fatto Il po' Ho fatto lo screenshot Al pollo Perché il pollo Era l'obiettivo Esatto Bravi No sto scherzando Ragazzi Non era il pollo L'obiettivo L'obiettivo Era andare in caverna L'altra volta Però per scherzare Avevo fatto Quello a fare lì Allora Qua abbiamo Un botto Di ringotti Perfetto Sono molto contento Andiamo a mettere Anche questi qua Al loro posto E andiamo a vedere Qua quanti ne abbiamo Oh Qua aumentano Qua la situazione Si fa caliente Perfetto Abbiamo uno stack Giusto Perfetto Ho detto perfetto Cento volte Ma perfetto Perché ho aperto La cassa Con la cassa lì Sono un pollo Se l'ho aperta Ebbè va bene Va bene Pazienza Comunque Direi che Appunto Per questo video Avremo quasi finito Noi Vi invito come al solito A lasciare un like Perché youtube è stronzo A commentare A iscrivervi al canale Andare a vedere Il prossimo video Che sarà appunto Il secondo video Del giorno Con la exit Ita Episodio 1 Mi raccomando Date tanti bei like A quella serie Che voglio Farla cominciare Col piede giusto Ragazzi Io come al solito Vi ringrazio E andrò avanti Ancora con lo smistamento Lo so Lo dico tutte le volte Ma è difficile Andare avanti Perché È impossibile Non difficile Ah qua Vado a fare brevemente La decorazione Che andrò a fare Col quarzo Poi l'aggiusterò meglio Comunque La cosa verrà Una cosa di questo genere Allora Torcia anche qua Quarzigno Si quarzigno E No che quarzigno E Argilla Argilla Ok Et voilà E qui Non lo so Se mettere argilla O Lasciare il buchetto Così Devo pensarci ancora un attimo Credo Che 99 su 100 Metterò Una botola qua Sì Perché Non si nota tanto La botola E Alla fine Non è che dia tanto fastidio La botola Ok Detto questo ragazzi Io come al solito Vi ringrazio Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti